Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Ghisleri a Tagadà sulla 7 da Tiziana Panella. Meloni torna intorno al 40% del gradimento, era scesa al 37%. Si è alzato il consenso sia per lei che per l'azione di governo, che è un po' più basso, ma è sempre attorno al 38-39%, dice la direttrice per Euromedia. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie, ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te. Buon proseguimento di giornata a tutti, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.